Carissimi amici e amiche, bentornati sul mio canale. Sono stata assente per un po', forse l'ultimo video che ho fatto è stato quello su Dagda, ma finalmente sono qui per parlarvi ancora di tradizioni, di curiosità, riferite al mondo celtico, quello che ci appassiona di più. Partiamo subito perché la tematica di oggi sono gli esseri fatati. Esseri misteriosi collegati agli elementi naturali, ai paesaggi come le montagne, i boschi, le cascate, oppure a elementi del territorio quali le rocce, le piante, gli alberi, sono sempre stati presenti nelle culture di tutto il mondo, come un elemento cross-culturale che ha attraversato tutto il pianeta attraverso le storie, le leggende, le credenze e le tradizioni. Questi esseri che in Europa vengono denominati più comunemente come fate, folletti, gnomi, elfi, vengono raggruppati in quel grande gruppo chiamato in inglese Little Folk, piccolo popolo, anche se non sempre ciò che li identifica è la loro piccola statura. Facendo diverse ricerche sul folclore legato proprio a questo piccolo popolo in Italia, ho notato che le storie e i racconti sono rilegati proprio in quelle aree, fuori dalle grandi città, dalla frenesia, dove ancora si tramanda una tradizione orale legata alla natura, ai cicli naturali. Uno degli studi più importanti condotto su queste tematiche fu effettuato tra il 1907 e il 1910 da parte di un antropologo americano della Stanford University, Walter Ivan Wenz, che condusse proprio uno studio venendo a visitare i paesi dove le tradizioni celtiche erano più vive, quindi l'Inghilterra, il Galles, la Scozia, la Bretagna. Qui studiò proprio come il fenomeno del piccolo popolo fosse ancora una credenza fortemente radicata, soprattutto nelle aree rurali, e ancora completamente viva tra il popolo che tramandava queste storie e queste credenze attraverso storie e racconti. Se volete approfondire questo argomento trovate i suoi studi raccolti in un libro intitolato Fate, una fede celtica. Oggi, anche grazie a diverse pellicole ispirate al mondo fantasy, il mondo degli esseri fatati è ritornato in auge, come una riscoperta di qualcosa che sta oltre, qualcosa che in qualche modo ci riunisce alla nostra infanzia, al nostro senso di vedere una realtà oltre il visibile. Nella mitologia irlandese, gli esseri fatati sono chiamati dai nasci o gentri. Essi sono impercettibili agli occhi umani nella vista ordinaria. Infatti si dice che coloro che li possono vedere, li possono vedere attraverso una cosiddetta vista che va oltre, appunto, ai sensi più comuni. Essi sono custodi soprattutto di tumuli, di cerchi di pietre, di boschi, di templi in luoghi naturali. Essi vivono ovunque, ma sono pochissimi coloro che riescono a percepirli. Ma chi sono esattamente questi esseri? È molto più facile dire ciò che non sono. Per esempio, non sono delle divinità, in quanto essi non vengono venerati come degli dèi, non hanno la stessa connotazione. Possiamo definirli come degli esseri, sicuramente spirituali, inferiori ad essi. Già in diverse culture indoeuropee vengono denominati come abitanti dei tre mondi, vale a dire del mondo dell'aria, del cielo, della superficie della terra, con le sue rocce, le sue acque. E infine del sottoterra, dei sotterranei. Diciamo che abbiamo questi tre livelli di appartenenza di questo popolo. Spesso quando parliamo di fate, l'immagine ricorrente è quella di una piccola donna, molto leziosa, carina, con delle bellissime ali. Quest'idea di esseri, quindi che popolano l'aria, è un'idea soprattutto derivante dal cristianesimo medievale, dove questi esseri venivano proprio connotati anche con l'accezione di angeli caduti dal cielo. Quindi esseri inferiori, che oramai appartenevano alla terra, ma non completamente ad essa. Nella mitologia irlandese, il mondo che popolano questi esseri è il cosiddetto side, pronunciato sheed. Questa è una parola che ci arriva dall'irlandese antico she step, che era comunemente la parola con la quale si indicavano i tumuli, dove solitamente venivano seppelliti i defunti. Non a caso abbiamo anche una derivazione dall'inglese con la parola sit, che significa luogo del riposo, dove ci si ferma e ci si siede. Questi erano i luoghi dove già a partire da un'epoca che precede il Neolitico, venivano portati i re, dove venivano deposti i re. Quindi era un luogo dove potevano sedere, dove potevano restare in pace. Infatti la parola sheeda è un'altra derivazione che deriva appunto da pace in irlandese. Non a caso, quando si passa in uno stato di una vita oltre la morte, si dice riposa in pace, in inglese rest in peace. Allora abbiamo un primo riferimento molto importante. Le fate e gli esseri fatati sono fortemente legati al mondo dei defunti. Qualcosa che non ci viene raccontato spesso nelle leggende, nelle storie da bambini, ma il loro legame con questo altro mondo è indissolubile nella dimensione celtica. Inoltre la parola sheed, anche per come è pronunciata, ci ricorda proprio il vento, la brezza. I tubuli spesso erano luoghi dove vi erano proprio dei canali dove poteva passare dell'aria. Ricordo per esempio uno dei tubuli più famosi, quello di Newgrange in Irlanda, dove appunto vi è un corridoio. L'aria era associata quindi all'altro mondo, all'alito che proveniva dagli antenati, da coloro che avevano oltrepassato la soglia. Ecco allora che gli esseri fatati sono associati anche ai fantasmi, coloro che giungono a noi anche attraverso quest'aria, quest'alito, questa presenza. L'aria è sicuramente l'elemento che più di tutti ci unisce alla dimensione dell'altro mondo. Il respiro e la brezza nella cultura endoeuropea vengono spesso identificati con coloro che stanno nell'aldilà, ma non solo, anche al concetto di anima. Anemos infatti in greco significa appunto brezza, soffio. Anche per esempio una delle parole più comuni che utilizziamo, la parola animale, che deriva da anima, che indica proprio coloro che sono attraversati da questo vento, da questa brezza, che appunto rende vivi, rende vitali gli esseri, ad una dimensione che non è solamente percepibile con i cinque sensi. L'apparizione degli esseri fatati può essere per gli esseri umani un evento fortuito oppure un evento non tanto fortunato. Si dice infatti che non si potevano chiamare gli esseri fatati con un nome proprio. Si raggruppano tutti gli esseri con il nome di buon popolo o piccolo popolo ed è anche un modo per ingraziarsi tutta la comunità di questi esseri. Spesso si parla di rapimenti fatati. Queste sono storie che ci vengono riportate nel folklore di persone ai quali è stato concesso l'ingresso all'interno del mondo sotterraneo del S.H.I.E.D. o del Fairyland i quali hanno fatto esperienza di questo mondo compresente al nostro. Molto spesso i rapimenti fanno riferimento a donne e bambini in particolare a bambini che si racconta che in alcuni casi vengano scambiati con esseri del mondo fatato il cosiddetto changeling vale a dire proprio lo scambio di un'immagine perdurante del vivente che però possiede del sangue fatato. Non solo i bambini ma anche le nutrici per esempio si racconta venivano rapite proprio per nutrire anche il popolo fatato per poi riportarlo sulla terra con i cosiddetti mezzo sangue vale a dire coloro che occupavano nella scala appunto gerarchica delle varie specie anche una dimensione che poteva essere tra l'umano e l'inumano. Le storie quindi ci raccontano proprio di questi changeling e spesso anche le sembianze di questi ultimi erano alterate non sempre di bell'aspetto infatti ci appaiono. Nel folclore ci viene spesso riportato come anche certi disturbi fisici ed effetti anche sulla salute fossero provocati dall'inimicizia con il popolo dei fatati. In inglese per esempio la parola ictus viene definita con fairy stroke come colpo dei fatati. Si pensava infatti che coloro che venissero colpiti da ictus fossero stati colpiti dal mondo dei fatati e che diventassero degli esseri con sembianze umane e animali ma sicuramente privati delle loro funzioni più importanti. Nelle storie spesso si trova il riferimento di frecce fatate o dardi elfici vale a dire effettivamente proprio elementi di frecce spesso punte anche riferiti all'età della pietra come per esempio selci scolpite che venivano trovate presso tumuli. Si racconta nelle storie che le persone che appunto si recavano anche a profanare questi luoghi venivano colpiti dal popolo fatato e che appunto lasciava questi frammenti di pietra scolpita manufatti creati si pensava proprio dal popolo dei fatati. Ecco allora che la dimensione degli scid viene poi raccolta in quello che viene definito il mondo oltre che nella mitologia irlandese viene chiamato Tirnanog vale a dire proprio il mondo dell'oltretomba dove però abbiamo una dimensione molto diversa da quella che ci può giungere da un'interpretazione più cristiana del mondo altro. Infatti si racconta che questo mondo era popolato da esseri meravigliosi dove non si potesse mai invecchiare dove ci fosse gioia feste si racconta di un mondo veramente gioioso bello luminoso dove il dolore la bruttezza le malattie erano completamente sconosciute quindi essere rapiti ogni tanto dall'altro mondo era anche considerato come una fortuna nonostante noi possiamo coglierla come una deprivazione da quella che può essere considerata una realtà più comune e ordinaria. Questa inoltre era la dimensione alla quale i guerrieri potevano accedere appunto dopo la loro morte. Sappiamo che i Celti non temevano la morte proprio perché la loro dimensione di oltremondo era veramente festante viva vitale. Amo tantissimo questa visione della vita oltre la morte che proprio permea tutta la spiritualità e la cultura celtica. Mi piacerebbe poi approfondire se volete un discorso un po' più personale su come io vivo questo mondo se vi piace che questa serie è anche dedicata agli esseri fatate continui scrivetemelo qui sotto vi racconterò anche delle esperienze personali e vi ringrazio ancora una volta per iscrivervi al mio canale soprattutto perché non mi sono fatta vedere per un po' e ringrazio tutti coloro che lo sostengono anche attraverso piccole donazioni torneremo torneremo presto con un altro episodio di Ne Siamo Celti ciao a presto dove già ancora prima del Neolitico venivano portati il re dopo i loro morti questa è una parola che ci arriva dall'irlandese anticolo già ancora prima del Neolitico a presto